allora qua abbiamo preparato il tè perché quella di oggi sarà una chiacchierata lunga ciao lettrici e lettori bentornati su Miss Fiction Books io sono Tiffany e mi sto chiedendo perché io mi infilo in queste situazioni la risposta è non ne ho la più pallida idea evidentemente è masochismo da parte mia ma oggi parliamo di un argomento frizzantino che mi causerà un sacco di mal di pancia perché infatti oggi parliamo di come reagiamo quando scopriamo che gli autori o le autrici che amiamo hanno compiuto o hanno detto cose che non condividiamo oppure sono stati accusati di reati molto gravi come separiamo quindi l'opera dall'artista? è giusto separare l'opera dall'artista? riusciamo ad apprezzare poi la loro opera? anche se l'artista, cioè l'autore o l'autrice ci fanno fondamentalmente schifo come gestiamo tutte queste cose? cioè qual è la risposta giusta da dare in questi casi? ecco, visto che a me non piace rendermi la vita facile siamo qua a parlarne ci tengo molto, ovviamente prima di cominciare il video a dire che mi piacerebbe sapere la vostra opinione però vi premetto anche che secondo me è necessario arrivare alla fine del video perché elaborerò un sacco di cose, punti diversi quindi forse per capire tutte le sfaccettature di questa cosa ha senso arrivare alla fine non so come perché è lunghissimo però vi chiedo la pazienza di arrivare in fondo e poi davvero mi farebbe molto piacere e vi sarei super grata se vi va di lasciare un commento e affrontare questo argomento insieme secondo me ne può nascere una discussione un confronto civile molto bello ci tengo perché qua mi beccherò un sacco di insulti quindi rega, io direi che possiamo proseguire premetto subito diverse cose innanzitutto nell'infobox trovate tutti i link alle cose alle quali mi riferisco in modo da non poterle o non doverle affrontare caso per caso perché mi sembra una grandissima perdita di tempo infatti nel video di oggi ci saranno degli esempi ma sono degli esempi ovviamente funzionali a innanzitutto la mia discussione quindi a entrare un po' e fare degli esempi sulle varie dinamiche in più anche per contestualizzare alcune cose dall'altro però non voglio che sia un video incentrato sui singoli episodi perché proprio questo secondo me è sempre rapportato alle singole persone al singolo episodio e non si riesce mai a fare una discussione un po' ampia sul tema anche in maniera seria ok? soprattutto in ambito libri ecco oggi ci riferiamo all'ambito della lettura quindi non entro nemmeno in ambito cinematografico dove forse c'è ancora più bisogno di fare questo discorso e anche delle sfumature probabilmente diverse però insomma oggi parliamo di autori e autrici parto anche con la seconda premessa inevitabile dicendo ovviamente a tutti che tutti possiamo amare cose problematiche tutti possiamo amare cose che oggettivamente hanno una qualità molto infima perché magari a noi parlano lo stesso o comunque magari non siamo noi il soggetto della discriminazione amiamo il contenuto della cosa non sempre chi lo crea anche perché molto spesso non sappiamo chi sia quel nome sulla copertina pensate a tutte le autrici che hanno dovuto ricorrere a delle iniziali puntate o cambiare il proprio nome o usare degli pseudonimi per farsi passare come uomini insomma quello che facciamo oggi è una discussione un pochino più articolata un pochino più ampia che non punta a colpevolizzare ovviamente i lettori e le lettrici ma affrontare una discussione seria su quello che effettivamente per tante persone è un problema e ragionare in una maniera un po' collettiva su come queste cose hanno un impatto anche politico nell'industria editoriale ricordo anche che non sempre ovviamente questi diciamo atti questi crimini questi pensieri ovviamente discriminatori entrano nell'opera degli artisti quindi nell'opera letteraria di questi scrittrici o di questi scrittori però può capitare possiamo non vederlo possiamo leggere alcune cose in una maniera diversa ora che abbiamo delle conoscenze su questi autori e queste autrici perché possiamo anche chiederci se questi pensieri non si riflettano mai poi nell'opera effettivamente nel loro contenuto questi comportamenti che mettono in atto quanto poi si specchiano nell'opera stessa oppure questi comportamenti o questi pensieri possono avere delle ulteriori implicazioni che non hanno un legame diretto solo con l'opera col prodotto e quindi è bene indagare su tutta questa complessità insomma è un terreno così neutro leggere il libro di un autore o di un'autrice problematica ne parliamo insieme perché io ho dei pensieri estremamente forti però secondo me questo non deve essere un video solo sul mio pensiero ma sul ragionare su tutte le ipotetiche implicazioni quindi direi di iniziare perché siamo già durati sette ore con le premesse io spero che voi abbiate un tè altrettanto grande come il mio che per coerenza lo sto facendo con una tazza di Harry Potter ovviamente e quindi direi di iniziare partiamo da un po' il contesto che mi ha portato a scrivere questo video che ho iniziato a scrivere in realtà l'estate scorsa però ho sempre rimandato perché mi rendo conto che veniva troppo a galla il mio pensiero politico peraltro quindi ho riscritto questo video più volte innanzitutto cosa è successo l'estate scorsa che è un po' il motivo per cui io sono mi sono buttata su questo tema stupida ragazza anyway l'estate scorsa sono uscite soprattutto su twitter diverse accuse nei confronti di autori molto apprezzati e riconosciuti soprattutto di genere fantasy grimdark sci-fi thriller horror insomma ambito di genere ovviamente la gravità è abbastanza diversa ma sono saltate fuori episodi molto gravi molto molto gravi proprio dal punto di vista diciamo giudiziario e quindi insomma sono uscite delle reazioni molto diverse e quindi insomma vi faccio un elencone diretto c'è stato coinvolto Mike Cole Paul Kruger Sam Sykes Mark Lawrence Scott Lynch e poi diciamo che sono riemersi un po' episodi di diversa natura ma comunque allo stesso tempo problematici coinvolgendo Victoria Schwab Mackenzie Lee Cassandra Clare Rainbow Rowell Veronica Roth Maggie Stiefvater e un pochino come sempre George R.R. Martin perché i suoi comportamenti sono problematici da un sacco di tempo però noi se vogliamo possiamo allargare questa discussione guardando anche ad altri autori autrici problematici come Jay Asher James Dashner Isaac Asimov Orson Scott Card Marion Zimmer Bradley Roald Dahl H.P. Lovecraft Yuko Mishima insomma qua possiamo andare avanti veramente delle giornate a elencare gli autori e le autrici problematici poi se torniamo indietro la lista diventa infinita ed estenuante però ripeto io non voglio entrare nei casi singoli perché innanzitutto secondo me sono funzionali sono fino a un certo punto alla discussione in ogni caso nell'infobox trovate tutti i documenti relativi a queste cose che io vi ho segnalato in questo momento che poi non è che ho segnalato le ho riportate quindi come ci comportiamo quando scopriamo cosa succede quando scopriamo che un autore o un'autrice che amiamo fa qualcosa che noi non condividiamo per non dire compie un atto criminale infatti parlerò proprio di un argomento più ampio e diciamo del consumo di media di prodotti che amiamo ovviamente prodotti da individui che o sono altamente discutibili o hanno compiuto atti che non condividiamo o hanno diciamo posizioni che non vi condividiamo per non dire sono accusati di cose molto gravi è un tema che ho anche già affrontato in parte in passato perché io ho delle posizioni molto nette su alcune cose però diciamo che molto spesso non è così semplice ok o non lo è per tutti e quindi secondo me ci sono diversi punti da affrontare il primo è quello delle risposte possibili perché una risposta può essere valida e applicabile a tutti i casi la risposta secondo me è assolutamente no nel senso che ci sono troppe variabili in gioco come ci comportiamo noi come lettrici e come lettori cioè dopo lunghissimi dibattiti secondo me possiamo isolare le reazioni in tre comportamenti fondamentali il primo è quello di rifiuto che è tendenzialmente la risposta che do io cioè non leggiamo né parliamo né trattiamo né supportiamo più quell'autore o quell'autrice perché ha fatto qualcosa che noi non riusciamo ad accettare e viviamo questo coinvolgimento personale in una maniera molto forte la seconda reazione è quella della separazione tra opera e artista che possiamo anche chiamare di chiarimento ovvero magari molte persone ci tengono a puntualizzare che ne condividono né supportano alcune idee o alcune azioni di un autore o di un'autrice però allo stesso tempo continuano a leggere continuano a supportare continuano a parlare di queste opere la terza e l'ultima è quella dell'indifferenza direi ovvero fondamentalmente non c'è un coinvolgimento diretto si ritiene che il lettore o la lettrice non abbiano un coinvolgimento diretto nella politicizzazione di questi episodi e quindi si continua come si è sempre fatto si continua a leggere si continua a comprare si continua a supportare in pratica noi non la riteniamo una nostra responsabilità e quindi in fondo noi siamo dei consumatori in pratica non la riteniamo una nostra responsabilità e quindi abbiamo tutto il diritto di poter usufruire di un'opera allora parto con una bombetta a mano poi andiamo sulle cose serie giuro però questa cosa io mi sento di doverla dire perché se no andrei contro ogni principio e ogni posizione che io assumo nella vita nel senso che per me leggere è un atto politico come lo è ogni cosa che noi facciamo nella vita ogni scelta che diciamo di intraprendere ogni libro che noi scegliamo di leggere è un'azione più o meno consapevole nel senso che possiamo farla con effettivo criterio o con meno criterio con ricerca senza ricerca ma la lettura lo scegliere un libro rispetto ad un altro un argomento rispetto ad un altro non è un terreno neutro a mio parere è un atto che ha sempre un valore politico personale noi in fondo quando leggiamo qualcosa quando guardiamo di qualcosa stiamo compiendo una scelta anche se è un fantasy anche se è un libro per ragazzi anche se è una cagata non lo so anche se è una cosa davvero molto leggera e molto stupida anche se è davvero boh non so un libro molto leggero e di intrattenimento puro perché la nostra azione ha delle ripercussioni economiche sociali e anche politiche in fondo noi entriamo dentro un sistema di cui già ovviamente facciamo parte proprio tramite l'esercizio del nostro della nostra azione di consumatori consumatrici qui infatti si inserisce un po' la visione politica che noi abbiamo che si esprime in tanti modi ovviamente diciamo un pochino riassumibili anche negli atteggiamenti dei quali vi raccontavo prima l'indifferenza è un atto politico esattamente come quello dello schierarsi per una fazione in difesa di qualcosa o contro qualcosa perché in fondo noi stiamo sostenendo economicamente un autore o un'autrice comprando la sua opera magari anche acquistando gadget oppure partecipando ad un evento stiamo esercitando una forma per quanto limitata e debole di potere e allo stesso tempo ne stiamo addirittura conferendo insomma per quanto è poco questo potere è un potere e per questo la lettura secondo me è un atto politico ma a parte questa introduzione che secondo me spiegherà moltissime cose dell'approccio che ho io a certe dinamiche vorrei entrare un po' nei vari punti che mi sono scritta ok innanzitutto inquadrare la questione che ci viene sottoposta perché c'è una grossa differenza Pippi se anche non ti fai le unghie in questo momento è molto carino da parte tua cosa dici inquadrare il contesto o ciò che succede tramite una serie di codici e informazioni è assolutamente necessario perché c'è una grossa differenza tra discriminazione un reato un crimine e chiaramente anche un pensiero diverso ovviamente questo è un discorso che è centrato soprattutto su autori e autrici attualmente in vita quindi dopo parliamo anche degli autori e delle autrici morte ma prima vorrei affrontare la cosa più complicata cioè il rapporto con chi tuttora è vivo respira crea produce e fa parte del sistema nel quale noi ci inseriamo chiaramente le accuse e ciò che viene messo in discussione hanno dei pesi molto diversi e chiaramente delle valenze che non sono uniche non tutto rientra ovviamente in un unico bollirone direi che lo diamo per scontato c'è una distinzione importante da fare tra crimini e reati discriminazioni punibili persino per legge pensieri e mentalità discriminatorie e allo stesso tempo anche opinioni diverse cioè ricordiamo un attimo che il fascismo non è un'opinione ma è un reato anche perché è l'abolizione di ogni pensiero la discriminazione delle donne della comunità lgbt delle persone delle minoranze delle persone disabili eccetera per quanto da molti venga vista come un'opinione in realtà anche nel nostro paese è un reato cioè almeno è altrettanto perseguibile penalmente poi bisogna capire quanto sarà perseguibile penalmente anyway in ogni caso possiamo dire che dove la libertà di opinione di una persona si scontra con con la discriminazione che agiamo e compiamo su una persona su cose che ovviamente non può cambiare cioè adesso a dire queste cose mi vengono i brividi però effettivamente quando si parla di reato di opinione invece che di discriminazione vera e propria insomma queste cose non si possono cambiare ok è chiaro però che con queste accuse noi ci confrontiamo con qualcosa di più netto no cioè qualcosa che ci porta nell'ambito del bianco e nero si mettono in gioco un pochino le probabili papabili strade delle quali avevamo parlato prima quindi vediamo qualcuno compiere un crimine tendenzialmente ci possiamo distaccare tendenzialmente possiamo fregarcene tendenzialmente possiamo comunque avere una posizione intermedia vediamo qualcuno dire cose razziste ecco secondo me qua entriamo invece in un ambito un po' più grigio e diverso ancora è quando ci sono opinioni che non ci piacciono e che non condividiamo faccio un esempio basilare forse l'argomento più dibattuto e più contrastato di tutti ovvero tema più divisivo la politica chiaramente quando si entra su visioni politiche su posizioni riguardo a un sistema un modello economico supporto a personaggi e figure politiche per quanto sia anche qua un po' discutibile comunque chiaramente ci scontriamo con posizioni che non ci piacciono magari possono non piacerci però sono altrettanto lecite perché chiaramente si può avere una visione di queste cose molto diversa anche se non la condividiamo e quindi anche in questo caso una persona può avere dei parametri di tolleranza o dei parametri comunque che possiamo identificare come quanto questi aspetti influiscono incidono sul nostro avvicinarci a un'opera e ad un'altra per esempio se scopriamo che un autore o un'autrice diventano supporter di Trump credo che non sia un terreno così neutro per tutta una serie di implicazioni allo stesso tempo è un'opinione quindi chiaramente per quanto possiamo non condividerla è comunque una cosa lecita e qua siamo noi a decidere quanto queste opinioni questi pensieri possono influenzare sulle nostre decisioni su cosa leggere come rapportarci con queste cose o se influiscono direttamente o meno sulla nostra lettura vi faccio un esempio che mi tocca ad esempio da vicino e non entra nella sfera politica ma rientra nella libertà di opinione e di espressione quando uscì la bussola d'oro che è una delle mie serie preferite non avete idea di cosa è successo a livello di reazioni tuttora spesso leggo nelle recensioni grossi attacchi alle posizioni che assume Pullman ovviamente dentro l'opera spesso leggo che sia un'opera antireligiosa che sia un'opera di propaganda ateista che a me fa super ridere questo aspetto come se ci fosse della propaganda per diventare atei le fondamenta della serie non sono tanto l'antireligiosità e la propaganda ateista ovviamente ma è una serie dove al centro c'è il pensiero critico e come in realtà non la religione ma il dogmatismo religioso e come le sue strutture mettono in dubbio e minano la libertà individuale soprattutto legata al pensiero critico secondo me è palese che sia in realtà una serie critica delle strutture religiose più che delle religioni stesse però la differenza è molto sottile per una persona religiosa immagino che il confronto con quest'opera sia comunque spinoso per non dire spesso doloroso come ci si rapporta con un'opera del genere se non si è atei o agnostici cioè è complicato però questo d'altronde rientra nella differenza di opinioni e di approcci non tanto dal punto di vista delle discriminazioni e ovviamente oltre al tipo di crimine o il tipo di reato che insomma ci troviamo ad affrontare bisogna sempre tenere conto del contesto sia delle accuse che delle evidenze è chiaro che noi non possiamo avere un'unica risposta utile per tutti i casi soprattutto perché abbiamo innanzitutto dei sentimenti diversi che ci legano a un'opera a un autore a un'autrice e al loro lavoro e non tutte le opere ovviamente sono così importanti per noi rispetto ad altre e poi va sempre aggiunta una riflessione su chi sta dicendo determinate cose facciamo dei paragoni perché è chiaro secondo me che se un'autrice semi sconosciuta con pochissimo seguito usasse le sue piattaforme il suo sito i suoi social per dire cose transfobiche per esempio giusto per entrare nella vita reale per quanto rimanga sbagliato discriminatorio e anche perseguibile penalmente sappiamo che il suo raggio di azione è molto limitato quindi è grave ed è chiaro che però non ha lo stesso impatto che può avere l'autrice più famosa al mondo che ha rivoluzionato la letteratura per bambine e per ragazzi e che ha una piattaforma che parla a decine di milioni di persone l'impatto il suo raggio di azione e i danni che può provocare sono chiaramente di un'entità non paragonabile perché non c'è nulla che potrebbe essere paragonabile a questo impatto ok sono gravi entrambi sì hanno però un impatto molto diverso e qua si parla ovviamente di impatto non dell'atto in sé è chiaro che l'atto in sé è grave in entrambi i casi almeno penso che e spero che chi sia qua sopra un pochino condivida questa opzione insomma a noi le discriminazioni non piacciono è chiaro che però se a compiere un crimine un reato è chiaro che è un discorso ancora diverso quando si tratta di crimini e reati che a prescindere dal fatto che uno abbia una piccola piattaforma una grande piattaforma rimangono comunque crimini e reati ovviamente molto spesso sono reati legati a crimini abusivi crimini violenti crimini a sfondo sessuale e quindi vanno un po' oltre a tutto ciò che secondo me noi possiamo accettare spero penso però che in generale molte persone arrivino al confronto con queste discussioni sul come rapportarci con autori e autrici problematiche o criminali perché raga è criminale chi violenta le proprie fan nei bagni di una convention molte persone però si avvicinano al confronto con questo problema da un punto di vista secondo me molto teorico considerando l'arte del tutto indipendente da chi la crea questo si chiama tendenzialmente morte dell'autore viene definita proprio morte dell'autore ovviamente al maschile perché la morte dell'autrice vabbè non in senso fisico ovviamente ma da intendersi come se una volta data alla stampa un'opera un libro smette di appartenergli in maniera totale e di avere una correlazione col suo pensiero col suo modo di agire ma diventa praticamente dei lettori e da un lato io penso che sì non per forza il pensiero le discriminazioni e anche le cose più atroci che può aver commesso un autore o un'autrice non per forza si riversino nell'opera cioè non necessariamente li ritroveremo durante la lettura però io non sono così certa che queste discriminazioni queste visioni questi pensieri chiamiamoli pensieri che a me trema il labbro però ok chiamiamoli pensieri io non sono così sicura che questi pensieri queste visioni queste discriminazioni a un certo punto non si traducano anche nell'opera o comunque non necessariamente ma neanche non sono del tutto slegate dall'opera cioè in qualche modo hanno la possibilità di riflettersi sul contenuto insomma in qualche modo nemmeno l'opera poi diventa un terreno neutro perché se noi guardiamo una qualsiasi opera si inserisce in qualche modo in una visione che può essere una visione politica sociale economica pensate solo alle strutture politiche che leggiamo dentro un fantasy quelle non sono spesso una reimmaginazione di una società sono esattamente la riproposizione della società nella quale viviamo le strutture gerarchiche chi viene discriminato o chi viene considerato inferiore dentro un libro molto spesso queste cose trapelano e poi dobbiamo anche tenere a mente che i legami economici sociali e di potere di un artista e della sua opera invece sono cose estremamente tangibili reali io considero appunto la letteratura come un atto politico proprio perché ogni scelta che compiamo lo è il personale è politico e la lettura è un atto politico e anche l'indifferenza è sempre una risposta politica perché in qualche modo noi stiamo conferendo quel potere economico sociale quella rilevanza quel prestigio a un determinato autore a una determinata autrice quindi secondo me quando noi dobbiamo dare una risposta personale quando scopriamo che insomma un artista ha fatto qualcosa che noi non condividiamo o è accusato di un crimine oppure è stato appunto giudicato colpevole per un crimine secondo me entrano in gioco tre fattori fondamentali quando decidiamo che risposta dare a questo rapporto che noi abbiamo con l'opera ad esempio innanzitutto entra in gioco il profitto e quindi il denaro il guadagno dopodiché c'è sicuramente un confronto con i nostri principi i nostri valori e poi c'è anche una questione di percezione che secondo me non è di secondo piano partiamo ovviamente dal guadagno che è la cosa principale la cosa più ovvia letteralmente noi quando acquistiamo un libro stiamo dando potere a una persona stiamo finanziando quella persona quella persona trae profitto dal fatto che noi siamo consumatori di quell'opera d'arte o quel libro o quel prodotto quindi questa cosa ci può interessare o meno ma sappiamo che non ha una valenza neutra ci possono essere metodi alternativi per non far guadagnare un autore o un'autrice che però non sono sempre applicabili e non sono adatti a tutti e soprattutto richiedono anche l'accessibilità a queste forme madonna pipi porca misera sto facendo un discorso serio oggi veramente una punk ok noi possiamo trovare degli escamotaggi ma non tutti sono accessibili ok se proprio vogliamo leggere quell'autore o quell'autrice la seconda cosa da prendere ovviamente in considerazione sono i nostri valori e i nostri principi i valori nei quali ci identifichiamo fondamentalmente infatti indipendentemente dal fatto che gli autori o le autrici ne trarranno profitto letteralmente possiamo dire dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista del prestigio del potere della rilevanza i nostri principi morali possono comunque portarci a non voler consumare leggere o diciamo dare spazio a una determinata opera che è a prescindere dal fatto che ci possano guadagnare qualcosa infatti noi possiamo anche pensare che anche se non c'è quel profitto quantomeno diretto che possiamo vedere legato ad un'opera e sebbene qualcuno potrebbe non guadagnarci nel breve termine questo ci porta a ragionare invece sul guadagno a lungo termine sull'affermazione sul prestigio che si guadagna dal leggere e dal diciamo supportare in qualche modo un determinato autore o una determinata autrice questo ci porta secondo me a ragionare in una maniera molto ampia nei confronti soprattutto di autori e autrici morte e poi il terzo punto secondo me da prendere in considerazione quando dobbiamo capire se leggere un'opera o no è la percezione per molte persone me compresa ok devo dire che molto spesso la percezione è quella dinamica scatenante che porta a reagire in una maniera molto istintiva ed è fondamentale il modo in cui noi percepiamo queste cose che sia in maniera perfettamente consapevole o in maniera anche non del tutto consapevole a volte alcune cose ci sembrano profondamente sbagliate e quindi perché dovremmo avere una risposta diversa da quella che insomma tendenzialmente potremmo avere o il nostro corpo il nostro cervello ci dice di avere questa percezione peraltro si infila anche in pieghe abbastanza diverse ok per esempio significa che emotivamente in qualche modo noi possiamo anche distaccarci da alcune opere che abbiamo amato molto oppure che una volta amavamo e che a un certo punto non riescono più ad essere per noi solo l'opera stessa perché è come se venisse contaminata in qualche modo dalle azioni dell'autore e dell'autrice insomma pensate un po' come se fosse il simbionte di Venom cioè l'opera non riusciamo più a vederla a un certo punto con gli stessi occhi di prima ed è magari facile diciamo dare una risposta seguendo un po' questi tre principi che siano i valori la percezione o che sia proprio il guadagno quando ci sono delle aree molto nette quando ci sono delle azioni bianche o nere cioè un crimine un reato come può essere un reato violento a sfondo sessuale spero ok che nessuno metta in dubbio che questo sia chiaramente un atto molto grave e lì diciamo che ci troviamo un pochino a prendere delle decisioni con facilità ma cosa succede quando invece queste aree e queste problematiche rientrano in quella che possiamo definire una zona grigia o comunque non sono magari così gravi non sono magari cose particolarmente problematiche oppure che non vengono considerate problematiche pensate a tutte quelle azioni problematiche che noi percepiamo come minori non sto dicendo che lo siano esempio pensate per esempio a tutti quegli autori e quelle autrici bianchi che a un certo punto scrivono e introducono nei loro romanzi personaggi o culture bipoc asiatiche insomma non appartenenti alla cultura diciamo euro statunitense ok e che magari svolgono ricerche pessime quindi facendo risultare dinamiche molto problematiche dentro i loro libri insomma quando si rappresentano magari anche minoranze sotto una pessima luce quindi andando a rafforzare gli stereotipi legati a queste comunità penso anche al bullismo online non da tutti viene percepito con la stessa gravità oppure come dicevamo prima che è una cosa che succede molto spesso tutte quelle situazioni dove non c'è stata magari una vera e propria condanna ma sono magari diciamo cose venute fuori molto tempo dopo o a distanza o sono in fase preliminare sono accuse per ora chiaramente oppure dove a contrapporci c'è proprio un pensiero un'ideologia di fondo un modo di pensare di nuovo secondo me diventa molto importante il contesto che cosa hanno fatto di che cosa vengono accusate queste persone quali sono i miei sentimenti a questo punto nei confronti di queste tematiche cosa sono disposta ad accettare però dopo tutto questo discorso teorico facciamo alcuni esempi così vi racconto soprattutto i miei traumi le mie difficoltà ok che sono quelle che conosco in primis pensiamo a uno scrittore ancora vivente che pubblica libri tuttora e che è stato condannato più volte o gli sono stati attribuiti più e più volte delle violenze sessuali che di nuovo io rega spero che su questa cosa non ci siano pareri ok se compriamo un suo libro e se andiamo a vederlo a un evento noi sappiamo che lo stiamo supportando finanziariamente ma se pensiamo allo stesso scrittore morto però 50, 60, 70 anni fa 100 anni fa la percezione un pochino cambia perché non perché il reato fosse meno grave figuriamoci anzi era solamente deresponsabilizzato però diciamo che se la nostra decisione magari di leggerlo o non leggerlo può essere traghettata soprattutto a causa del profitto quindi del guadagno immediato ovviamente il consumo di questo autore che magari 100 anni fa ha violentato qualcuno cambia in parte perché manca il guadagno diretto non avendone più la possibilità e qui come decidiamo di fare questa cosa come come facciamo a rapportarci con queste opere ora che sappiamo che questo autore è morto probabilmente se fossimo state lì avrebbe violentato anche noi io raga poi sembro tranquilla e serena ma io sto morendo girando questo video dicendo queste cose con questa so come dire neutralità perché non mi appartiene una via di mezzo tra questi esempi potrebbe essere uno scrittore che di recente ha scritto cose molto razziste online sui social sul sito dove vi pare posto che non tutti hanno capito ancora che il razzismo è un reato è una discriminazione gravissima ma lo rilegano a un'opinione legittima e qua possiamo aprire delle parentesi che non vogliamo aprire e se pensiamo che la sua opera non abbia delle implicazioni e delle riflessioni dal punto di vista della visione non lo so come fa a non entrare una persona razzista nella sua opera perché io faccio questi esempi quando nemmeno ci credo ok allora fingiamo che dentro l'opera di questo autore razzista non entrino le sue opinioni razziste ok in questo caso comunque possiamo essere portati a decidere di leggerlo comunque oppure dall'altro lato a cercare degli escamotage per leggere quest'opera che possono essere leggerlo tramite le biblioteche comprare libri usati oppure rivolgerci alla pirateria perché così in questi modi noi non contribuiamo finanziariamente a sostenere le sue posizioni faccio alcuni esempi sempre su di me che sono un po' più realistici perché almeno ci credo in quello che sto dicendo e non faccio degli esempi casuali però che mi hanno messa in grande difficoltà parliamo di Orson Scott Card che ha attivamente condotto delle battaglie ha sostenuto finanziariamente una serie di associazioni e di diciamo partiti politici che hanno cercato di minare i diritti della comunità LGBT soprattutto i diritti delle persone omosessuali insomma ha effettivamente contribuito attivamente a limitare la libertà delle persone della comunità LGBT ai plus ecco io come riesco a leggere Ender's Game che tra l'altro è una delle mie opere preferite a distanza di tempo senza collegarlo a tutto questo ovviamente io potrei dire nell'opera le persone omosessuali non vengono discriminate non esistono in Ender's Game nel gioco di Ender anzi in italiano non esistono le persone omosessuali sono chiaramente invisibilizzate però allo stesso tempo non sono attaccate direttamente rimane una bellissima opera però io allo stesso tempo se dovessi rileggerla e parlarne mi devo scontrare con questa visione che è innegabile e la mia visione politica entra chiaramente in gioco perché io credo nell'inclusione credo nella parità di diritti perché quando i diritti non sono estesi a tutte le persone sono discriminazioni cioè come divido la mia visione politica da tutto questo altro esempio che mi trovo spesso di fronte che spesso mi fa arrabbiare e poi dopo lo riaffrontiamo è la questione del come fare quando le accuse sono agli inizi oppure quando le accuse vengono fuori molti anni dopo e quindi diciamo che non c'è stato magari un vero e proprio processo e queste persone non hanno dimostrato di essere colpevoli diciamo rientra qua alla sfera di atti effettivamente criminali quindi tutti i crimini che hanno a che fare come dicevo prima con crimini violenti crimini di altro tipo insomma che non siano chiamiamole opinioni anche se secondo me la discriminazione non è un'opinione insomma anche quelle cose che sono successe 20, 30, 50, 100 anni fa e qual è il contesto di quel comportamento o di quell'atteggiamento se qualcuno è vissuto chiaramente 100 anni fa si confrontava con una cultura dominante molto diversa da quella che viviamo ora e dovremmo chiedergli di rendere conto dei suoi pensieri della sua cultura dei suoi atteggiamenti spesso discriminatori con dei metri di giudizio che invece applichiamo ora e magari a quel tempo erano molto comuni i suoi pensieri erano anzi quelli più diffusi e ora noi però li percepiamo come sbagliati ci confrontiamo appunto con delle mentalità che ora sono cambiate molto spesso che comunque hanno fatto dei passi avanti soprattutto nei casi di autori bianchi europei o statunitensi comunque insomma occidentali questo li rende meno sbagliati agli occhi di ora? non lo so non è detto però chiaramente il contesto è un po' diverso e questo mi porta appunto al punto successivo ovvero come ci confrontiamo con autori e autrici morti perché per molte persone la risposta sul dividere l'opera dall'artista è anche questione di autore vivo autore morto ovvero tutti gli autori morti per tantissime persone automaticamente acquisiscono quella green card per passare a livello successivo senza problemi perché proprio molte persone distinguono autori vivi autori morti proprio perché manca la forza fondamentale che sostiene questo sistema ovvero il guadagno immediato e quando parlo di mentalità diffusa mi riferisco ad un sacco di questioni che sia culturalmente il colonialismo mentale che ci ha portato davvero ad avere atteggiamenti razzisti senza nemmeno considerarli razzisti penso anche a cose ancora più profonde ancora più radicate pensiamo al folklore europeo il folklore europeo è impregnato di antisemitismo e di razzismo o di discriminazioni proprio tra diverse etnie diversi popoli che insomma poi hanno creato una serie di miti una serie di diciamo tradizioni e questo ha fatto parte di una cultura dominante tuttora comunque è parte della cultura che è una cultura che si è chiaramente creata su basi discriminatorie in parte tanti valori bellissimi ma anche tanti valori che ora troviamo discutibili facciamo un po' un esempio pratico di autori e autrici che non ci sono più ma che chiaramente sono problematici faccio un esempio di H.P. Lovecraft ok maestro dell'horror colui che l'ha forgiato il genere probabilmente ha tirato fuori le più grosse paure che avevamo e le ha messe in tutta la sua opera ecco io penso che rileggere ora Lovecraft sia comunque complicato in molti casi non che questo tiri iao elimini il valore della sua opera ma noi quando leggiamo rats on the wall cioè i ratti nelle pareti mi ricordo come si chiama in italiano comunque solo per farvi un esempio banale e scopriamo che ha nominato il gatto con la n-word proprio con un atteggiamento sprezzante razzista come facciamo a rimanerne del tutto indifferenti con i codici e insomma tutta la cultura che abbiamo accumulato oggi io che sono una persona profondamente antirazzista e che sta lavorando moltissimo sulla decolonizzazione mentale come faccio a essere indifferente a questo questo toglie valore alla sua opera no questo però lo inquadra comunque come un autore del quale non mi piace parlare per non parlare di tutti gli epiteti super antisemiti e razzisti che ha disseminato nel corso di tutta l'opera pensiamo a un'altra antisemita Tolkien ok Tolkien è un autore amatissimo chiaramente in cui su questo canale appena lo nomino mi arrivano 28 bamboline voodoo con il mio nome sopra piene di spilli e quindi io dirò e le ennesime cose problematiche su Tolkien Tolkien oltre ad essere antisemita ultra cattolico ha affermato in un'intervista che vi riporto giù nell'infobox che lui nel signore degli anelli ha messo pochissime donne e in generale ha scritto poche donne rispetto a tutti gli uomini perché non era in grado di scrivere le donne non si sentiva capace di scrivere le donne qua ecco qua ok ecco qua tralasciando un pochino i miei pensieri personali perché mi chiedo anche se sia meglio scriverle male o non scriverle del tutto cos'è peggio non lo so sono indecisa però immaginatevi se al posto di Tolkien ci fosse stata una donna a dire le stesse cose che una donna che afferma io non scrivo gli uomini perché non li so scrivere quanto più duramente noi chiaramente l'andremo ad attaccare quanto saremmo più feroci quanto invece perdoniamo questo genere di affermazioni che sono gravissime perché giustifichiamo tutto con il genio tolkieniano e ci sembra di seconda importanza chiaramente nei confronti della sua opera ed è chiaro che sono tutte cose che hanno pesi e di importanza diversa a seconda della persona un altro esempio clamoroso mentre Charles Dickens scriveva degli ultimi cercava di dare voce visione corpo alla classe proletaria insomma agli ultimi a casa menava la moglie suoi abusi familiari il suo essere violento in ambito domestico è risaputo in più nutriva asprissime opinioni razziste che sono molto comuni ovviamente nell'Inghilterra del XIX secolo inclusa addirittura una roba folle come la diffamazione proprio dei nativi americani e anche un sostegno alla loro eliminazione insomma ecco questa è una figura di quelle molto controverse perché se da un lato è effettivamente stato molto importante da un punto di vista di impatto sociale dall'altro è stato veramente atroce e poi forse uno dei miei più grandi traumi degli ultimi anni ovvero Marion Zimmer Bradley io l'ho raccontato molto bene nella recensione delle nebbie di Avalon quello che è successo io proprio sono rimasta colpita da questa storia per differenti motivi il primo è perché ho scoperto di tutte le porcherie che aveva fatto a metà lettura e avrei dovuto informarvi prima ed è da questo che è nato proprio il mio senso di dovermi informare e che mi ha aperta molto alla discussione su queste tematiche e ho scoperto di tutti gli abusi di tutto insomma i crimini a cui ha costretto la figlia e non solo la figlia ho scoperto di queste cose a metà della lettura di un libro che mi stava entrando davvero dentro come pochi libri mi stava entrando nelle ossa e questo processo mi ha personalmente spezzata io non amo parlare delle nebbie di Avalon ma è un libro che amo e Morgana è il mio personaggio preferito probabilmente della letteratura e questo mi ha portato proprio a pensare che io avevo la responsabilità di fare ricerche prima e questo è un caso ancora più atroce rispetto agli altri proprio perché ciò che ha messo nella sua opera Bradley è estremamente in contrapposizione con quello che ha fatto quindi era proprio questa sorta di ambivalenza totale e divergenza proprio totale nell'azione nel contenuto cioè come possiamo leggere di una persona così profondamente legata al senso del femminile alla storia delle donne e poi allo stesso tempo sapere che ha abusato della figlia per anni allo stesso tempo una cosa che molti cercano ovviamente di contestualizzare è il periodo storico quindi come possiamo parlare di autori e autrici problematiche e anche delle loro opere problematiche se le filtriamo con gli occhi e la consapevolezza di oggi io penso che ci possano essere anche qua delle sfumature perché possiamo sicuramente esaminare le questioni problematiche della letteratura più storica dei classici e cercare magari di estrapolare quei temi che ancora oggi sono rilevanti ancora oggi sono importanti e anche magari vedere quelle prospettive che si sono evolute come si sono evolute possiamo e abbiamo tutto il diritto di interpretare queste storie con una chiave una lente moderna e quindi in qualche modo riprendere possesso anche di queste narrazioni come lettori come lettrici questo non significa chiaramente decontestualizzare togliere dal contesto storico sociale culturale queste opere perché chiaramente è diverso chiaramente ci sono autori e autrici che non venivano nemmeno percepiti come problematici in quanto era appunto cultura diffusa mentalità diffusa però allo stesso tempo non possiamo considerare anche queste opere morte dove non c'è spazio di discussione questo non significa peraltro ignorare o perdonare le trasgressioni i crimini e diciamo le cose che non condividiamo con questi autori e queste autrici ma significa che le nostre risposte possono essere sempre adattate ad ogni contesto a ogni situazione soprattutto possiamo applicare in molti casi il contesto nel quale viviamo perché io penso che leggere un'opera che magari viene considerata il meglio della letteratura europea il meglio dei classici contenente però una manciata di opinioni razziste non sia così facile da leggere in questo momento perché purtroppo non si possono separare le due cose e quindi anche la reazione che noi possiamo avere nei confronti di questi autori e queste autrici e di queste opere è sempre diversa e può essere differente anche rispetto a quella che abbiamo nei confronti di autori e autrici tuttora viventi insomma autori e autrici che magari senza alcun segno di redenzione continuano a guadagnare soldi popolarità e prestigio anche attraverso le loro posizioni problematiche o discriminatorie per non parlare di chi continua a guadagnare dopo aver commesso dei crimini violenti perché raga cioè la molestia è un crimine gli abusi sono dei crimini poi perché non infognarsi ancora di più in questa discussione già di per sé è molto faticosa con l'argomento ancora più spinoso ovvero la richiesta di accountability ovvero le conseguenze di queste denunce di queste diciamo cose che emergono e la consapevolezza che si ha proprio nei confronti di queste azioni quando diciamo scopriamo che un autore o un'autrice hanno dei comportamenti problematici o addirittura hanno commesso reati diciamo che decidere di separare l'opera è una strada possibile chiaramente però è anche un atteggiamento altrettanto semplicistico molte volte per quanto ripeto lecito spesso significa non informarsi non cercare informazioni riguardo a un autore o un'autrice e anche quando siamo informati derubricare o sminuire o ridurre al minimo proprio la pesantezza di certe accuse lo si vede moltissimo nel cinema perché sembra quasi la prassi perché forse lo è però nei libri non è diverso peraltro teniamo sempre conto che quando accusiamo qualcuno di razzismo e di transfobia molto spesso non riguarda le persone che si lamentano del fatto che non possono leggere autori e autrici perché questa accusa è molto spesso se siamo persone bianche e cis non ci colpiscono direttamente non sono rivolte a noi non discriminano noi non ci riguardano quindi non li vediamo come problemi nostri ma molto spesso anzi con grande facilità siamo portati a sminuirli siamo portati a derubricarli come sì cose di poco conto alle persone bianche un atteggiamento razzista opinioni razziste non scombussolano la giornata non cambiano nulla fondamentalmente ma per una persona nera significa ogni volta riesumare un trauma continuo una cosa che non possono eliminare dalla loro esperienza la mortificazione che subiscono le persone trans di continuo tramite atteggiamenti transfobici non riguarda me che sono una donna cis cioè o almeno non mi riguarda personalmente ma come posso non vedere quella sofferenza come se fosse anche la mia come separo quella sofferenza dalla mia quotidianità e dalla mia irresponsabilità se scelgo di leggere qualcosa come la ignoro come fingo che non sia importante come faccio a supportare una persona che usa le sue piattaforme che raccolgono milioni di persone per spingere argomenti transfobici creando fratture creando sofferenza come come ignoro tutto questo perché è facile magari quando si è facile non è vero neanche lì però diciamo è più netta la posizione che noi prendiamo quando ci troviamo di fronte magari ad accuse di crimini quindi come violenze sessuali molestie diciamo che all'interno delle industrie creative noi siamo portati a pensare che queste cose succedano perché appunto succedono ed è proprio quel potere quel supporto che noi diamo a questi soggetti consentono loro di continuare a fare quello che hanno sempre fatto di esercitare questo loro potere e ovviamente il potere li aiuta anche a farla franca continuare a fare quello che hanno sempre fatto senza subirne nessuna conseguenza perché proprio in questo caso si parla di accountability cioè dell'assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni perché la richiesta è molto chiara chi in una posizione di potere lo sfrutta per gerarchizzare discriminare oppure per compiere crimini ok di varia natura deve assumersi la responsabilità e affrontare le conseguenze delle proprie azioni che sia da un punto di vista giuridico ma anche da un punto di vista lavorativo se non giuridico ma non è semplice nemmeno immediato infatti la difficoltà del far emergere queste cose è molto molto tangibile soprattutto quando le accuse arrivano tramite i social vedo proprio l'alzata di muri e delle resistenze fortissime soprattutto indovinate da chi da persone bianche molto spesso appartenenti al genere maschile ed etero ok i miei preferiti gli ubec perché la difficoltà di far emergere queste cose queste dinamiche soprattutto se sei donna ancora di più se appartieni ad una minoranza se sei disabile se sei in una minoranza razzializzata sessualizzata ostracizzata e quant'altro e questa non è una cosa di secondo piano perché appunto si scontrano con moltissime resistenze di tipo sociale economico ed immagine personale ci sono moltissime donne che si sono fatte avanti a raccontare sia diciamo nel mondo online ma anche attraverso chiaramente i canali quelli che insomma tutti quelli che dicono no ma su twitter non si fanno le denunce cioè anche chi li ha fatte offline è il problema che insomma ci sono davvero tante donne che si sono fatte avanti per raccontare cose davvero terribili su come autori di alto profilo o considerati molto autorevoli da parte dell'industria si sono comportati nei loro confronti quando si sono diciamo affacciate al mondo editoriale hanno cercato di diventare autrici professioniste molto spesso quando hanno subito molestie abusi abusi di tipo sessuale violenze sessuali e moltissime persone affermano di non aver potuto dire nulla al momento della molestia perché si sentivano di avere pochissimo o nessun potere nei confronti di queste figure che invece venivano considerate estremamente autorevoli nell'industria e che avevano già molti collegamenti nel settore che avevano un certo tipo di affermazione quindi ovviamente il rapporto di potere era estremamente sbilanciato e questa è pressoché la norma per moltissime donne la norma nel subire in differenti luoghi che siano nella vita pubblica nella vita lavorativa nella vita scolastica nella vita privata molesti aggressioni microaggressioni e parlarne non è l'opzione più facile anzi parlarne spesso è peggio perché se lo fai quasi sempre non trovi sostegno ma ulteriori aggressioni e molto spesso anche ulteriori penalizzazioni questo è un fatto con il quale ci dobbiamo confrontare so che è molto facile dire ma perché non ha denunciato io non so se voi avete mai denunciato qualsiasi crimine di stampo sessuale molesti eccetera io non lo auguro a nessuno perché è un processo orribile e spesso non porta nulla se non a un peggioramento delle proprie condizioni tra l'altro non tutti i casi sono denunciabili non tutti i casi sono dimostrabili e soprattutto magari molto spesso non lo sono nell'immediato e molto spesso passano attraverso processi lunghi estenuanti ulteriormente traumatici chiaramente ma di questo ci siamo già occupati e non ci voglio tornare perché mi fa stare anche male parlare di queste cose quindi direte beh però se uno non denuncia è innocente fino a prova contraria secondo me non è nemmeno così semplice peraltro moltissimi autori dopo che sono emerse queste denunce pubbliche su twitter o su altri social sui siti eccetera hanno ammesso di aver commesso determinate cose si sono autodenunciati praticamente però chiariamo che queste autodenunce non sarebbero mai avvenute se non attraverso proprio queste denunce pubbliche perché autodenunciarsi ovviamente è segno di aver compreso i propri errori e di essere pronti per affrontare le conseguenze delle proprie azioni cosa però che non è né in voga né diffusa soprattutto quando riguarda i crimini contro le donne i crimini a sfondo sessuale le molestie perché molto spesso non li percepiamo nemmeno come crimini pensiamo che sia la trassi infatti molto spesso se queste accuse non fossero state pubbliche ok saremmo andati avanti come negli anni precedenti come prima continuando e probabilmente continuando a commettere una serie di reati contro le persone perché queste cose sono sempre successe ma proprio perché ci sono persone che vivono una certa condizione di potere e di privilegio soprattutto uomini bianchi cisgender con una posizione di rilievo nell'industria editoriale consente loro di continuare a esercitare questo potere sono dinamiche che si ripetono proprio per questo e ricordo proprio che questo tipo di violenze nascono non tanto per la violenza in sé ma per esercitare un potere di controllo che si traduce in tantissimi modi che siano effettivamente violenze molestie ma che siano anche razzismo white supremacy transfobia eccetera non cambia molto perché nascono dagli stessi presupposti e non dimentichiamoci che mentre siamo molto bravi a dire no ma questa non è una denuncia pubblica ok queste dinamiche creano sofferenze traumi dolore che non vanno via con un tweet anche perché la maggioranza delle richieste di determinate persone proprio quando ci si confronta con questi episodi non è la cancellazione delle persone ma è l'assumersi la responsabilità delle proprie azioni e che queste azioni abbiano delle conseguenze tralasciando il fatto che siamo ovviamente più portati a colpevolizzare le vittime che chi queste azioni le esegue però ci sono delle conseguenze da affrontare diciamo che se rubiamo qualcosa al supermercato non è un atto neutro non andiamo fuori dal supermercato con una pacca sulla spalla perché però queste azioni invece non le vediamo in una maniera altrettanto netta e non ci sentiamo altrettanto coinvolti faccio un esempio proprio tra quelli che ho ripescato prima proprio di accountability bevo per questo amore Mike Cole e Sam Sykes e trovate ciò che è successo a loro quello che è emerso su di loro nell'infobox ed entrambi hanno a che fare con molestie o violenze sessuali come nel caso di Mike Cole sono stati scaricati dalla casa editrice questa è una conseguenza anche se ovviamente a me viene da pensare che sia più per una questione di immagine che per un reale supporto ma pensiamo che queste cose siano nate da sentimenti più giusti possibili ok l'indifferenza non poteva essere la risposta a queste accuse molto gravi ma se vengono prese in considerazione trattate con serietà non possono non avere degli effetti e in questo caso la casa editrice ha cercato di non supportare finanziariamente non dare ovviamente ancora più potere a questi due soggetti e questi sono due super eccezioni nel sistema perché di solito il sistema tende a proteggersi quindi non a proteggere le vittime ma a cercare di tirare i remi in barca perché nella maggior parte dei casi queste conseguenze sono puramente immaginarie si parla tanto di quanto sia delettere quanto faccia male la cancel culture ma rega la cancel culture non esiste cioè è un'illusione è una percezione che abbiamo pensate a JK Rowling ok io l'ho già citata senza citarla più volte perché adesso a un certo punto dobbiamo affrontarla ok io ho detto che non avrei mai più parlato di lei qua sopra perché sto male a parlare di lei ok dopo tutta la merda transfobica che ci propina continuamente sui suoi account perché è una scelta lei ha scelto di usare la propria voce i propri profili per dire cose estremamente dannose e transfobiche potete considerarlo lecito io non me la sento cioè me fa schifo ok comunque scrive il suo nuovo romanzo sotto pseudonimo di Robert Galbraith H la serie di Corman and Strike e dove c'è una dinamica interna estremamente transfobica e sapete quali sono le conseguenze che ha subito dopo la famosa lettera super problematica dove mescolava transfobia al fatto che lei fosse una vittima di violenza domestica che sono due cose gravissime ma molto diverse ok ecco diciamo che dopo la pubblicazione di quella lettera moltissime persone hanno risposto hanno cercato di boicottare hanno diciamo sollevati i problemi di tutta la sua visione super trans escludente ovviamente nascosta da tutto vabbè ma non ci voglio neanche entrare perché poi mi mi incazzo ecco moltissime persone si sono addirittura schierate in difesa della povera Joanne Rowling perché tutti l'attaccano così sapete quali sono state le conseguenze di questa cancellazione ve le leggo prima classifiche in Inghilterra col suo nuovo libro e vi leggo anche questa cosa Troubled Blood ha raggiunto il primo posto nella classifiche dei libri del Regno Unito vendendo 64.600 copie nei primi 5 giorni questa è di gran lunga la più grande vendita di una sola settimana per qualsiasi titolo di Robert Galbraith quasi il doppio delle vendite di Little White quindi accountability tell me about the cancel culture I see vabbè ok poi ci sono invece esempi virtuosi perché in tutto ciò io cioè nel senso ho parlato di tutti questi esempi per farvi capire la complessità nel supportare o meno nel parlare o meno male di un autore nel distaccarsi o meno dal comprare l'opera o non comprarla perché effettivamente questa accountability può portare a cose molto positive e molto virtuose e come invece magari richiamare alcune persone alcuni autori alcune autrici che viaggiano molto spesso su posizioni discriminatorie può essere invece un'occasione per aprire un dibattito e anzi cercare di trasformare o migliorare queste posizioni cercando di far comprendere l'importanza dell'inclusività parlo di inclusività perché cioè è ovvio che se è un reato non si può portare da nessuna parte facciamo l'esempio di Brandon Sanderson sapete che è un altro autore che io non amo però per anni diciamo che sia nelle sue opere che nei suoi scritti nelle sue lezioni ha avuto posizioni omofobe preoccupanti per anni insomma sono emerse testimoniato un po' ovunque quindi dai libri dal blog durante le sue lezioni nei video però negli ultimi 12-13 anni ha fatto un lavoro davvero importante per eliminare queste posizioni omofobe genuino o meno che siano già che siano nate effettivamente da una comprensione del fatto che siamo tutti uguali e nessuno dovrebbe essere discriminato però le persone possono cambiare possono essere più inclusive imparare dai propri errori imparare a non essere misogine razziste omolesbobi transfobiche nonafobiche insomma tutto quello che vogliamo c'è spazio di miglioramento non è che queste cose nascono per rendersela con una persona ecco queste cose nascono dal fatto che quando emergono queste problematiche si può scegliere anche l'atteggiamento da avere si può cercare di cambiare di essere più inclusivi e meno discriminatori o si può fare finta di nulla pensate che ci sono moltissimi autori autrici soprattutto succede a chi si occupa di book blogging book influencing eccetera mandano appunto quelli che vengono definiti ARC cioè advanced reading copies a me è capitato più volte che negli ARC ci fossero cose abbastanza problematiche immaginatevi questi ARC che vengono distribuiti molti mesi prima dell'uscita spesso anche un anno prima perché sono proprio la prima stesura prima ancora dell'intervento dell'editing molte lettrici e molti lettori hanno evidenziato che in alcune opere ci fossero posizioni culturali problematiche quindi magari discriminatorie nei confronti di un'altra etnia di una cultura diversa è possibile che ci fossero parti abiliste parti grassofobiche anche magari non in maniera intenzionale ma per cultura assimilata non lo so quale stessi cosa però questo lavoro fatto molti mesi prima ha portato molti autrici molti autori e molti editor a modificare l'opera a cercare di eliminare queste parti problematiche e io questo lo trovo un processo molto salutare ecco qua io mi sento di fare anche un po' una riflessione personale quello che succede molto spesso quando si portano alla luce poi certe accuse per un lettore o per una lettrice è abbastanza diverso chiaramente e dirò una frase abbastanza forte perché molto spesso ti ritrovi in un mare di indifferenza generale soprattutto quando ti trovi ad avere a che fare con dinamiche razziste misogene homo lesbo bi-transfobiche abiliste classiste aggrassofobiche e non solo e molto spesso noi tendiamo a scusare la propria indifferenza per ignoranza posto che chiariamo secondo me possiamo avere modalità atteggiamenti e sensibilità molto diverse e anche atteggiamenti molto diversi quando ci confrontiamo con queste dinamiche perché appunto la nostra sensibilità personale nei confronti di queste dinamiche può essere diversa non è uguale per tutti però se un po' avete imparato a conoscermi in questi anni sapete che per me queste sono tematiche imprescindibili io non riuscirò mai a provare indifferenza per le vittime perché so cosa significa e questo mi porta un po' all'ultimo punto che è quello sul book influencing booktuber bookstagrammer bookblogger quello che volete booktoker su come rapportarsi con queste cose e qua ovviamente se già non ero la più odiata dalla community italiana ribalzo in prima posizione ok ecco io ripeto se un pochino avete imparato a conoscermi sapete che io su queste cose ho anche delle posizioni molto nette perché vedo che molto spesso si scusa la propria indifferenza per ignoranza e sono due cose vicine ma non sempre così vicine posto che è lecito affrontare queste cose con i tratteggiamenti che riassumevo un po' prima uno può essere estremamente riluttante a parlarne si può essere una posizione un po' a metà quindi dividere l'opera dall'artista oppure totalmente fregarsene e nemmeno pensare all'artista io però continuo ad essere un po' nella posizione abbastanza dura del o ci interessa o non ci interessa può non interessarci è lecitissimo ma in quanto persone che blatterano su una piattaforma online un po' di responsabilità ce l'abbiamo non informarci su certe dinamiche sugli autori e sulle autrice che leggiamo che possono essere problemati che possono aver fatto cose che non condividiamo ok non solo ricade su di noi perché se fossimo da sole sti cazzi cioè non sarebbe un problema siamo noi nel nostro mondo ma ricade su di noi e sulla nostra community poi posto che di nuovo non penso che necessariamente dobbiamo leggere solo persone con le quali condividiamo tutti i nostri valori dove il pensiero è totalmente allineato e se no sarebbe un po' complicato e da un lato si può anche davvero pensare che una volta che un autore o un'autrice pubblicano un libro e lo mettono fuori no non appartiene più solo a loro diventa qualcosa di tutti e questo è soprattutto vero quando c'è di mezzo un'opera estremamente popolare che è entrata nell'immaginario collettivo esattamente come può essere Harry Potter il libro il libro appartiene tanto all'autrice quanto ai lettori allo stesso tempo quell'appartenenza non si gioca su un terreno neutro è inutile che fingiamo che lo sia un terreno neutro non lo è e quell'appartenenza quella rivendicazione anche dell'opera può avvenire con una celebrazione privata non necessariamente pubblica è infatti un po' il dilemma di chi fa book influencing o comunque chi parla di libro online perché regali l'influencing spesso è un riflesso in realtà più che un'intenzione si gioca tra due estremi quello della responsabilità e quello dell'avere anche una vita del fatto che non stiamo dietro a tutto infatti chi parla di libro online si trova in un territorio davvero ancora più spinoso anche rispetto ai lettori e alle lettrici nel senso che la potenzialità che hanno i nostri contenuti ovviamente è solo la potenzialità di raggiungere le persone di influenzarle in qualche modo di raccontare alcuni libri alcune storie è estremamente grande ovviamente è solo la potenzialità ripeto poi vabbè siamo tre gatti a leggere fantasy ma quello è un altro paio di maniche possiamo non informarci possiamo pensare che quello che proponiamo sui nostri canali sui nostri account sia completamente neutrale secondo me no e se non è un no è un ni che discorso difficile noi abbiamo una responsabilità inutile che ci giriamo attorno in qualche modo che possiamo accettare o meno in quello che comunque proponiamo a chi ci segue di nuovo la lettura è un atto politico e quindi anche quando proponiamo dei contenuti sui nostri canali stiamo esercitando una sorta di approccio politico possiamo tranquillamente in maniera lecita rifiutare questa responsabilità non sto dicendo che dobbiamo assumercela per forza ma allo stesso tempo non possiamo nemmeno negare che ci sia io personalmente sento il bisogno di conoscere cosa c'è dietro gli autori dietro le autrici che leggo perché effettivamente non voglio essere una consumatrice inconsapevole le vite delle persone non valgono i miei hobby e io ho sempre rispetto per le vittime e soprattutto ho rispetto per tutte quelle persone che si sentono attaccate quando ci sono dinamiche di questo tipo qua sopra siamo 16.000 no? pensare che quello che io propongo potenzialmente raggiunge tutte 16.000 le persone che mi seguono ovviamente la percentuale è minore ma sti cazzi e potrebbe ipoteticamente far vendere 16.000 libri significa che certi autori e certe autrici potrebbero guadagnare sulle spalle della mia totale indifferenza il mio ruolo ok parlo di me perché cioè io parlo di me il mio ruolo anche se in una community estremamente piccola ovviamente nei cioè nelle dinamiche dell'internet siamo piccolissimi il mio lavoro la mia attività qua sopra in qualche modo amplifica la voce di queste autorie e di queste autrici in qualche modo porta loro introiti li rende ancora più potenti e permette loro grazie proprio a questo potere amplificato dal mio lavoro e dalla mia indifferenza di poter continuare a veicolare messaggi transfobici razzisti misogini e quant'altro oppure a molestare le donne durante le convention o di impedire le autrici di avere contatti o di essere pubblicati all'interno di una casa editrice a meno che non accettino ricatti sessuali perché hanno ancora pieno appoggio e vengono ancora di più amplificati poi è chiaro che l'espressione creativa di un autore o di un'autrice attraverso la scrittura è solo una parte di ciò che sono non dobbiamo apprezzare ogni parte di una persona per ricavarne qualcosa dal suo lavoro è chiaro ma allo stesso tempo io sento di non poter essere indifferente al contesto non riesco a sostenere persone che vanno contro tutto ciò in cui credo in primisi valori di rispetto inclusività inclusione antirazzismo e non stuprare la gente cioè rega io non ce la faccio pensate se tutti i soldi che vengono spesi per comprare qualsiasi stronzata di merchandising di jk rowling e io sono piena ok acquistata nel corso degli anni andassero alle associazioni che sostengono le persone trans pensiamo se invece che spendere quei 10 euro per una tazza di harry potter qua le avessimo spesi per sostenere il mit il movimento italiano transessuale o a sostenere i centri antiviolenza per le donne vittime di violenza domestica o che vengono accolte per violenze sessuali perché è importante capire che quel denaro che noi spendiamo che in qualche modo influenziamo il nostro pubblico a spendere anche involontariamente potrebbe essere usato meglio ok banalmente in qualcosa in un gesto che prima consideravamo neutro pensate se lo stesso equivalente di un libro noi lo donassimo a un'associazione ci tengo molto a fare questo discorso perché secondo me troppo spesso cerchiamo davvero di deresponsabilizzarci cerchiamo di non vedere questo come un problema che in qualche modo ci riguarda io sono molto dura su questi temi e capisco ed è tutto anche un po' il discorso che ho fatto prima non tutto è assimilabile non tutto è paragonabile ma soprattutto quando si sostiene un'autrice o un autore che ha molta potenza molto potere e molta influenza ecco l'indifferenza secondo me è difficilmente scusabile allo stesso tempo però ci tengo ad aggiungere che questo non può essere per chi si occupa di letteratura di lettura online un processo paralizzante perché non stiamo tutto il giorno sui social io personalmente non entro spesso su twitter perché lo odio è proprio il peggior social che esiste perché ogni volta che ci entro esco con l'umore e in generale la mia salute mentale è peggiorata nettamente no? quindi non possiamo neanche pensare di fare ogni passo tenendo conto e facendo ricerche su ricerche perché se no alla fine è anche complicato riuscire a fare un qualsiasi tipo di attività ecco non è che ogni passo che dobbiamo fare lo dobbiamo fare cercando su google informazioni anche perché non sempre sono reperibili con facilità ma in me dobbiamo trovare un po' un bilanciamento perché comunque tutte queste informazioni tutti questi casi sono molto popolari sono emersi negli anni altri sono ricorrenti come il caso proprio di jk un pochino noi ci troviamo a metà ok? perché in me è così è complicato stare da questo lato del muro voi non avete idea di quante volte mi sia sentita dire queste tre frasi da un lato ma ne hai parlato di cose delle quali avevo parlato ma parli di x e non di y e magari avevo affrontato entrambi oppure perché sei stata così dura con x e non con y quando ci sono contesti molto evidenti è chiaro perché da un lato tu che fai book influencing non riesci a stare dietro a tutto è impossibile ok? e dall'altro lato però anche chi ti segue non riesce a stare dietro a tutti i tuoi contenuti a tutte le tue storie su ogni social perché chiaramente si chiamerebbe stalking qui io ve lo giuro che io la capisco anche un pochino la voglia di deresponsabilizzarsi un poco soprattutto quando si tratta di un hobby come la lettura è lecito è lecito com'è lecito non volere affrontare degli attriti o delle situazioni spinose allo stesso tempo però ripeto un po' quello che ho detto prima molto spesso questa deresponsabilizzazione no? parte da presupposti più difensivi che di effettiva presa di coscienza cioè noi scambiamo o molto spesso cerchiamo di deresponsabilizzarci anche in un hobby come la lettura per non avere un ulteriore peso no? e la facciamo passare per ignoranza quando in realtà non è proprio così è semplicemente una voglia di fare finta di nulla ecco io nel dubbio dal caso Zimmer Bradley che mi ha spezzata in due lo ripeto ho imparato che due domande in più è sempre il caso di farsele una ricerchina su google nel dubbio veloce farla mandare un messaggio a un collega a una collega non è mai un male poi è chiaro io ho un atteggiamento drastico e purtroppo raga tutto questo video in pratica dove io cerco di esplorare tutti i vari sottotesti eccetera ma in realtà io credo che quando ci siano queste situazioni problematiche sostenere autori autrici problematiche sia problematico e se posso non do spazio sui miei spazi a queste opere e a questi autori e a queste autrici a meno che non siano discussioni che possono effettivamente portare a qualcosa in definitiva per concludere un po' tutto questo discorso che non lo so sta durando 70 ore la risposta a queste domande non può essere una univoca per tutti i casi e dall'altro lato può essere molto personale anche se ritengo che sia molto importante sia ragionare che dare risposte in maniera non solo individuale a queste dinamiche nel senso che non sono cose che riguardano solo noi e il nostro confronto sull'opera anche per dire il boicottaggio che è una cosa che io sposo moltissimo nasce in maniera magari individuale ma si diffonde come pratica collettiva non tanto poi per far sentire bene il singolo la singola persona che sa di aver fatto una buona azione ed essersi insomma sollevati un pochino dal senso di colpa essersi un po' alleviati la coscienza che ovviamente non è dipendente da una nostra azione diretta ma da un'azione di una persona che magari nemmeno conosciamo del quale abbiamo un libro in casa ma in questa dimensione proprio acquisisce forza dalla collettività il boicottaggio ecco allo stesso tempo però non dobbiamo nemmeno pensare a queste azioni come se finissero nel momento in cui non acquistiamo perché diventa un'azione singola allora cioè non trasforma il sistema perché ovviamente noi consideriamo problematici autori e autrici singoli ma questo è un problema sistemico ecco bisogna capire le strutture che governano queste dinamiche di potere e lavorare proprio per smantellare quel sistema che incoraggia sostiene e permette a queste dinamiche di continuare a perpetrarsi ad accadere ecco pensare a questa dimensione non più come singolo cioè persone che contribuiscono in qualche modo a cambiare le dinamiche del sistema è un passo avanti secondo me molto importante che rende il boicottaggio per dire come esempio di azione non il punto finale ma un percorso da intraprendere insieme e migliorare tutto il settore per renderlo un posto più sicuro inclusivo e che rispetti le altre persone e secondo me la lettura tende o dovrebbe tendere a fare soprattutto questo a confrontarci magari con cose che non ci piacciono con dinamiche che non condividiamo ma soprattutto ad aprirci un po' di più la mente a metterci nei panni delle altre persone ecco io direi che forse siamo arrivati alla fine lo spero e sicuramente non ho toccato tutto quello che dovevo toccare lo sapevo ecco però immagino che vi siate fatti un bel tè per rimanere svegli e seguire un po' tutto questo video ovviamente come ripetuto anche all'inizio mi piacerebbe molto confrontarmi con voi e sapere un pochino quali sono le vostre impressioni non tanto di di questa discussione lunghissima e delle mie opinioni ma di come vi rapportate voi con il confronto con queste cose e sono molto curiosa soprattutto perché so che questo è un argomento super divisivo molto combattuto ed estremamente complesso ecco io oggi ho deciso di immolarmi per la collettività quindi sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni ci sentiamo giù nei commenti io davvero vi ringrazio se siete arrivati alla fine cioè vi stringo la mano tantissimo pacca sulla spalla al team fiction perché rega super rispetto se avete seguito tutto questo blatterare vi ringrazio moltissimo per aver trascorso un po' di tempo insieme a me spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao